Mi chiamo Alessio Oddo, ho 42 anni. Sono impiegato in una compagnia marittima, faccio il commerciale. Mi piace stare all'aria aperta, quindi ho sempre fatto sport sia in acqua che in aria. Sono pilota in tutelare, in paragrautista. Subacchio, ho fatto sci, snowboard, kitesurf. Qualunque cosa mi portasse un po' oltre i limiti, l'ho sempre provata, mi piaceva. Quindi sono arrivato un po' al crossfit per caso. Devo dire che il crossfit ha cambiato molto la mia vita anche al di fuori del box. Qui è soltanto un'ora, però quello che fai nelle altre 23 ore è molto influenzato da quell'ora lì. Ti spinge a cercare il meglio di te, a spingere fino in fondo, a non arrenderti, a concludere le cose che inizi, a contare nelle persone che hai a fianco. E se anche una cosa è dura, tu dici, caspita, ne ho fatte ancora di più dure. Non cura una parte particolare, ma tutto l'aspetto fisico insieme, quindi velocità, forza, resistenza. E anche psicologicamente ti spinge a chiedere, ad avere sempre di più. Secondo me è uno sport ideale, propedeutico a qualunque altro sport. È alla portata di tutti, anche se non sembra. Non spaventatevi se volete provare, perché non si inizia con... Si inizia veramente gradualmente ed è scalabile a tutti i livelli. Quindi con dei coach preparati, con delle persone che vi seguono, otterrete veramente dei grandi risultati. Lo consiglio a tutti. Lo consiglio a tutti.